Molto, molto, perché nella misura soprattutto in cui l'ha annunciato il Presidente del Consiglio è la manovra più espansiva che è stata fatta in Italia. Dunque, il problema degli italiani è che ogni tanto esce fuori questo senso di benaltrismo perché tu dici farò 18 miliardi di taglia di tasse, però ci vorrebbe dell'altro. Io non lo so cosa ci vorrebbe, è molto difficile stabilirlo, però intanto è un buon, buon, buon inizio. Anche il taglio dell'IRAP sul costo del lavoro è un buon inizio secondo lei? È più di un buon inizio, è una cosa, come ha detto Renzi ieri, doverosa nei confronti degli imprenditori italiani. Ma quanto può creare sviluppo questo?